Si chiama Treta ed è una favola onirica raccontata in un cortometraggio realizzato con l'uso dell'intelligenza artificiale. La pellicola firmata dal trapanese Francesco Siro ha conquistato i giudici del LIFE, il festival internazionale organizzato da Expo City Dubai che celebra il rapporto tra cinema e tecnologia attraverso le opere realizzate con l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale. Il regista e filmmaker trapanese ha sbaragliato il campo piazzandosi al primo posto fra gli oltre 500 partecipanti con altrettante opere cinematografiche provenienti da 89 nazioni. Sono andati a Siro due dei quattro premi assegnati dalla giuria di esperti tra cui anche Richard Taylor vincitore di 5 Oscar con Il Signore degli Anelli. Il trapanese ha quindi ricevuto sia il premio per la migliore regia che quello esclusivo al Choice assegnato dall'intelligenza artificiale. La premiazione si è svolta all'Expo City di Dubai, la mini città futuristica costruita sull'area dell'Ex Expo 2020. Ho creato questo short film onirico, ha spiegato Siro dopo due anni di studi e ricerche sull'affascinante mondo dell'arte generativa. Le possibilità che le nuove tecnologie riescano ad offrire sono davvero incredibili. Certo, tali tecnologie hanno messo al centro molti quesiti e criticità, ma perché avrà voglia di raccontare, esprimersi e sognare, ha spiegato il regista trapanese, sarà sempre più ampio il ventaglio di possibilità offerte. I giudici del prestigioso concorso di Dubai hanno valutato le proposte in base alla qualità della produzione cinematografica, alla chiarezza della narrativa e del messaggio, all'innovazione, all'esplorazione creativa e all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Il corto Treta, in italiano scherzo, è una favola ricca di simbolismi dove l'uomo è inconsciamente controllato da un malvagio giullare, re delle tentazioni umane, mentre da un'altra misteriosa dimensione, un'avanzata civiltà di esseri scienziati, si schiera per la battaglia. Treta è anche il nome di una delle ere cosmiche che scandiscono il motociclico del tempo nella tradizione induista, l'età in cui la mente comincia a controllare la materia verso un bene superiore. E la trapanese Francesco Siro da oltre 15 anni opera come regista, ha diretto numerose produzioni video per opere liriche, concerti, spot pubblicitari, video musicali e cortometraggi. Dal 2015 ad oggi i suoi lavori hanno ricevuto diversi premi in Italia, ma anche nel mondo come Los Angeles e Tokyo.